Ok, ciao ragazzi, eccoci qua, siamo qui, è arrivato il pacchettino, è arrivato il Redmi Note 7 come già sapete da poco tempo a questa parte, diciamo più o meno dall'inizio dell'anno, forse un po' prima comunque Redmi si stacca ufficialmente da Xiaomi e diventa brand a parte, un po' come Honor per Huawei Facciamo l'unboxing Ok, eccoci qui con il pacchettino pronto per l'apertura e l'imballo è decente L'ho già aperto per vedere com'era la scatola e adesso tiriamo fuori anche il telefono Questo telefono arriva direttamente da XiaomiToday.it, blog di riferimento per gli amanti di Xiaomi in italiano Non è, questa volta non mi è arrivata la versione global ma è semplicemente la versione diciamo cinese Quindi vediamo un attimino cosa c'è nella scatola Ok, quindi nella scatola chiaramente troveremo il Redmi Note 7 pronto per l'uso E come vedete all'accensione vi da subito la scritta redmi Perché appunto non essendo più Xiaomi non viene più fuori la scritta Xiaomi ma Redmi comunque by Xiaomi Oltre a questo possiamo trovare il cavo di ricarica E abbiamo una Type-C No, sì, scusate un secondo perché non lo vedo Sì, è una Type-C di ricarica Come sempre redmi La presa, ok, la presa mi è stata messa La presa in italiano Però c'era nella scatola anche quella in cinese Perché come vi dicevo prima questa non è ancora la versione global Oltre a questo Sempre nella scatola troviamo La clip per tirare fuori la sim E la cover come sempre compresa nella confezione Un piccolo libretto di istruzioni in cinese Se comprate la versione cinese logicamente E adesso vediamo un attimino il Redmi Note 7 Che cosa offre Ok, il Redmi Note 7 ha il notch rimpicciolito E come potete vedere qua sopra Non so se si riesce a vedere bene Faccio una messa a fuoco un po' più particolare La cassa rimane qua in alto Ha il notch rimpicciolito per le notifiche E questo lo vedremo quando avrò installato tutte le mie cose E potrò dirvi com'è questo telefono Il telefono in se stesso ricorda molto Esteticamente Redmi Note 6 Abbiamo perso anche la scritta Show me Sulla parte posteriore Ed è diventata Redmi by Show me In piccolo Niente che dire Adesso faccio un ripristino Lo metto in Dima Sono curiosissimo di vedere La fotocamera Come si comporta E poi insomma Ci facciamo una recensione Veramente completa Detto questo Dai ci vediamo al prossimo video E sarà la recensione del Redmi Note 7